Ritmo e armonia sono elementi che scandiscono ormai i nostri giorni frenetici ma sono elementi importantissimi della musica. Sono fondamentali per la crescita di un ragazzo soprattutto per quel ragazzo che vuole intraprendere la passione o meglio la strada della musica. La cosa fondamentale è appunto la passione e l'impegno che uno ci mette per arrivare a un traguardo e il proprio obiettivo. Il ritmo e l'armonia sono elementi che scandiscono il tempo, accordano al meglio le nostre relazioni sociali, la nostra esistenza quotidiana, gli strumenti della comunicazione. E non solo. Ritmo e armonia sono elementi fondamentali della musica. Lo sanno bene gli studenti del liceo classico Casardi di Barletta impegnati in un percorso di studi che coniuga la solida formazione umanistica all'espressione artistica del suono. Ritmo, armonia, serenità, tranquillità apprenditiva. Questi sono gli elementi che favoriscono il successo scolastico di questo indirizzo. E quindi noi abbiamo anche costituito una rete tra le scuole ad indirizzo musicale e questa rete sta favorendo molto la connessione per raggiungere elementi di creatività, di successo scolastico. L'indirizzo musicale, entrato a pieno titolo nell'offerta formativa del Casardi, valorizza la naturale inclinazione degli studenti talentuosi, approfondendo e sviluppando le necessarie competenze per la padronanza dei linguaggi della composizione, interpretazione ed esecuzione. Il nostro liceo offre tutte le classi strumentali che caratterizzano lo studio in conservatorio. Abbiamo la chitarra, abbiamo il pianoforte, tutti gli strumenti a fiato. Docenti, esperti e qualificati, tecnologie musicali all'avanguardia, supervisione attenta del dirigente Giuseppe Lagraste e dell'intera comunità scolastica, armonicamente insieme, contribuiscono alla crescita dei saperi dei ragazzi, tracciando un cammino ben integrato nella società civile ed europea. Il nostro laboratorio di tecnologie è uno dei fiori all'occhiello, forse della Puglia, ci sono stati investiti dei fondi europei. Quale delle tecnologie musicali è un punto di svolta nello studio musicale, perché si compongono, da un certo punto di vista, quelle che sono le competenze creative, analitiche e compositive della musica, e dall'altro quella che è la tecnologia. Buone pratiche di didattica, vivacità culturale, creatività, partecipazione emergono nella festosa manifestazione dell'Open Day dell'indirizzo musicale, evento susseguente alla quinta edizione della Notte del Liceo Classico, che ha registrato la partecipazione di ex alluni del Casardi, divenuti eccellenti professionisti, tra questi Francesco Santalucia, compositore e produttore che vive tra Roma e New York. Il mio sogno, nonostante la scelta di questa scuola, è di voler intraprendere un percorso ludico con i bambini, con la musicoterapia, un'esperienza molto formativa e penso che sia anche un modo per poter fare volontariato, per poter aiutare le famiglie, i bambini comunque che vivono situazioni non molto favorevoli. Ritmo e armonia, emozioni in musica tra il fascino dei classici. Il 24 gennaio in rete con le scuole medie e inferiori organizzeremo un concerto nella giornata della memoria e quindi questo favorirà ancora maggiormente, ancora di più, la nostra attività scolastica.